Ciao bambini, io sono Giovanni, un amico di Silvì, la ragazza che era con voi quest'anno in sezione. Anch'io come lei voglio diventare un bravissimo insegnante, proprio come la vostra maestra Paola. Parlando con la maestra Paola, ho scoperto che state esplorando il mondo degli animali. Quanto sono belli gli animali! Lo dico proprio io, che vivo in una fattoria e sono sempre vicino a tanti animali differenti. Ho deciso di partire per farvi compagnia in questi giorni con una storia su due animali, una gabbianella e un gatto. La conoscete? La maestra Paola mi ha detto che voi l'avete già sentita e per questo ve la racconto molto semplicemente. Kenga era una gabbianella che stava facendo il suo primo volo attraverso l'oceano. Volando e volando arrivò in una città a lei sconosciuta, grigia e cupa. In questa città conobbe un gatto nero di nome Zorba, a cui lasciò il suo dono più grande, il suo primo uovo. Essendo un gatto Zorba non sapeva cosa farsene dell'uovo e, consultandosi con i suoi amici, scoprì che per curare questo nuovo arrivato doveva covarlo, tenerlo al caldo e proteggerlo, perché dopo la cova sarebbe nato qualcosa. Dopo un po' di giorni infatti nacque Fortunata, una gabbianella uguale a Kenga ma più piccola. Fortunata col tempo crebbe e riuscì addirittura ad imparare a volare, anche se il suo cuore era un gatto. Ve la ricordavate così la storia? Mi sono dimenticato qualcosa? Se vi siete accorti che mi sono dimenticato di qualche personaggio o di qualche scena, fate un bel disegno e inviatelo alla maestra Paola. Lei mi consegnerà tutte le vostre opere d'arte. Vedete questa scritta in azzurro? Dite ai vostri genitori di copiarla e incollarla su Google. Con questa scritta infatti si aprirà un giochetto con cui potrete rimettere in ordine le immagini del racconto. Buon divertimento bambini e ditemi se vi è piaciuto. Alla prossima!